Il viaggio hollywoodiano di Khan Yaman e il suo effetto su Dimetos Demir, dopo una storia d'amore. Khan Yaman è senza dubbio uno degli attori di punta del mondo televisivo turco che ha conquistato il cuore del pubblico e ha avuto un grande successo con le serie televisive locali. Yaman, che negli ultimi anni ha oltrepassato i confini della Turchia e si è guadagnato una grande reputazione in Italia, per poi entrare in progetti internazionali, continua ad attirare l'attenzione con il suo talento e carisma. Recentemente, il suo nome è associato a Hollywood. Quindi, cosa cambierà questo sviluppo nella vita di Khan Yaman? Forse ancora più importante, come sarà influenzata da questo sviluppo Dimetos Demir, il cui nome una volta veniva menzionato spesso e si diceva occupasse un posto speciale nella sua vita? Il sogno di Hollywood si sta avverando? Khan Yaman è un giocatore che negli ultimi anni si è fatto un nome non solo in Turchia, ma anche in ambito internazionale. La sua popolarità, soprattutto in Italia, e il successo nei progetti locali lo hanno portato a livello successivo. Yaman ha attirato l'attenzione non solo del pubblico turco, ma anche degli spettatori stranieri con la sua serie. La serie televisiva italiana Sandokan e altri progetti internazionali in cui ha recitato lo hanno aiutato a salire rapidamente la scala della carriera. Adesso si dice che Hollywood abbia aperto le sue porte. Hollywood è un obiettivo irraggiungibile per molti attori. La vastità di questo settore, la sua influenza mondiale e il fatto che i suoi progetti siano visti in tutto il mondo spinge molti attori e attrici a lottare per realizzare questo sogno. Riuscire Yaman ad avere questa opportunità potrebbe rappresentare un grande punto di svolta nella sua carriera. Tuttavia, questa opportunità porta con sé anche molte sfide e sacrifici. Dimet Özdemir y Kanyaman Traki del Passato Le strade di Kanyaman e Dimet Özdemir si sono incrociate con la famosa serie tv Erkenci Kus. Questa serie è stata vista con grande interesse non solo in Turchia, ma anche in molti paesi diversi. Grazie alla loro armonia e chimica nella serie, il duo ha ampliato la propria base di fan in breve tempo. Gli spettatori pensavano che la storia d'amore che avevano visto sullo schermo fosse realmente accaduta e queste voci occuparono l'agenda della rivista per un po'. L'amore di Dimet Özdemir e Kanyaman ha colpito profondamente i loro fan. Dopo un po' di questo legame tra i due si è cominciato a parlare anche fuori dallo schermo. Tuttavia, col tempo, si diffuse la notizia che la loro relazione era finita. I due hanno annunciato che si sarebbero separati dopo un po'. Anche se questa separazione è diventata ufficiale, i fan e il mondo dei magazine non hanno dimenticato questo amore. Andare a Hollywood potrebbe fare un grande cambiamento nella vita di Kanyaman. E che dire di Dimet Özdemir? Mi viene in mente la domanda se incontrerà mai più questa persona importante nella sua vita. Perché il ritmo intenso e frenetico di Hollywood, i nuovi progetti e una vita che viaggia costantemente tra paesi diversi potrebbero non offrire molte opportunità per far rinascere vecchie relazioni. È facile entrare a Hollywood? Sappiamo quanto sia difficile per molti attori turchi la strada verso Hollywood. Anche se l'industria televisiva e cinematografica turca è diventata famosa a livello mondiale, soprattutto negli ultimi anni, è ancora necessaria una grande lotta per prendere parte a un'industria enorme come Hollywood. Sebbene molti attori turchi di talento prendano parte a progetti internazionali, trovare un posto fisso a Hollywood è un processo molto arduo. Se Kanyaman avrà successo in questo processo è motivo di grande curiosità. Si pensa che Yaman, che impressiona sia per la sua struttura fisica che per il talento recitativo, possa trovare un posto per sé soprattutto nei film d'azione o nelle commedie romantiche. Tuttavia, non bisogna dimenticare che Hollywood non è solo una questione di apparenza, ma richiede anche grande disciplina e dedizione. In questo senso, Kanyaman deve lavorare duro e migliorarsi costantemente per farsi accettare in tutto il mondo. Cosa ne pensa Demet Özdemir? Demet Özdemir sembra essersi lasciata alle spalle da tempo la relazione con Kanyaman. Tuttavia, è solo questione di tempo se le strade dei due attori di successo si incroceranno. Perché entrambi gli attori riescono a rimanere all'ordine del giorno con le loro carriere in costante sviluppo. Ultimamente Özdemir ha continuato la sua carriera con serie TV e film. Il passo di Kanyaman a Hollywood può evocare alcuni ricordi emozionanti per Özdemir. Sebbene non ci siano informazioni definitive su come si sente Demet Özdemir riguardo a questo grande viaggio di Kanyaman, molti fan sono curiosi di questa domanda. Özdemir è un giocatore di grande successo nella sua carriera e qualcuno che migliora costantemente se stesso. Tuttavia, questo grande passo di Kanyaman, che un tempo aveva un posto importante nella sua vita, potrebbe lasciare un impatto anche su di lui. Hollywood può rappresentare un'enorme trasformazione non solo in termini di carriera ma anche di relazioni personali. Se Yaman avrà successo qui, si allontanerà dalla sua vita in Turchia e troverà un nuovo posto in un mondo diverso. In questo processo, anche vecchie amicizie, amori e relazioni possono cambiare nel tempo. Si incontreranno di nuovo? L'affermazione se Kanyaman va a Hollywood, Demet non lo vedrà più, è in realtà un'affermazione molto speculativa. Il fatto che due nomi famosi si riuniscano o meno dipende interamente dalle loro preferenze e dai loro progetti di carriera. Se Yaman avesse una grande occasione a Hollywood, i suoi legami con la Turchia potrebbero indebolirsi. Tuttavia, nel mondo di oggi, le distanze stanno diventando sempre più brevi. Soprattutto grazie alle piattaforme digitali, le celebrità possono rimanere in contatto con i propri fan e vecchi amici ovunque si trovino nel mondo. Tuttavia, quando si tratta di relazioni personali, la distanza a volte può portare a disconnessioni emotive. Sotto il ritmo intenso e la pressione di Hollywood, è un grande punto interrogativo quanto tempo Yaman possa dedicare alla sua vita personale. Inoltre, nuovi progetti, nuove amicizie e forse nuovi amori potranno dare una svolta alla sua vita in una direzione completamente diversa. Dime Tosdemir, invece, sembra decisa a proseguire la carriera in Turchia. Anche se è noto che è aperto a progetti stranieri, non ci sono informazioni chiare se farà un grande passo come Hollywood. In questo caso, la partenza di Kanyaman per Hollywood potrebbe far sì che i due si separino ulteriormente. Conclusione. In che modo un viaggio a Hollywood influisce sulle relazioni? Il trasferimento di Kanyaman a Hollywood sembra essere uno dei maggiori punti di svolta della sua carriera. Tuttavia, questo grande passo influenzerà profondamente non solo la sua carriera, ma anche la sua vita personale. Anche se il magico mondo di Hollywood attrae molti attori, può anche alienarli dalle loro vecchie vite. Come si plasmerà la relazione passata tra Dime Tosdemir e Kanyaman in questo nuovo periodo? Solo il tempo dirà la risposta a questa domanda. Tuttavia, è certo che il viaggio a Hollywood causerà grandi cambiamenti nella vita di entrambi i nomi famosi. Grazie. 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 Grazie.